Questione pelle del pisellino. Nei commenti dite, io non gli ho fatto la manovra e alla fine ho dovuto fare l'operazione. Beh, bella scoperta, aveva la fimosi, non c'entra niente con la manovra. Se uno ha la fimosi, cioè la pelle è stretta, non riesci né da neonato né da più grande ad abbassarla. Quello che noi diciamo è che siccome la maggior parte dei bambini non ha la pelle stretta, ce l'ha solo appiccicata, cercare di abbassarla nei primi anni di vita è una cattiveria inutile. Gli fa male e comunque la pelle si abbasserebbe da sola. Poi c'è qualcuno a cui non si abbasserà da sola, quelli che hanno la fimosi. Ecco, questi qui possono provare da grandi, vuol dire dopo i cinque anni, possono provare un periodo di cura con una crema al cortisone e se non basta, certamente dovranno essere operati.